Nel momento in cui purtroppo il virus entra in una struttura residenziale dove la maggior parte delle persone naturalmente hanno un'età avanzata e hanno anche problematiche di salute già pre-Covid, naturalmente la guerra da combattere è ancora più dura. Ancora altri due anziani ospiti della RSA di Montevarchi non ce l'hanno fatta, sono infatti morti a seguito delle complicazioni dovute alla Covid-19. Un drammatico bilancio che adesso sale a 10 decessi. Le ultime vittime sono morte solamente a qualche ora di distanza l'una dall'altra, entrambe sarebbero state ultranovantenni arrivate in ospedale dalla RSA di Montevarchi, struttura che adesso è diventata un centro di cure intermedie gestito dalla ASLA per pazienti Covid. Mi auguro che si sia alla fine di questo numero che per me è già troppo alto, come ho sempre detto anche solo un decesso legato ai nostri ospiti della RSA per me era grave perché dietro ad ogni persona che se ne va c'è una famiglia che naturalmente soffre, che è sconvolta e lo è ancora di più perché in questo momento per loro non è neanche possibile stare accanto ai loro cari e non è possibile neanche dargli una legna sepoltura. Il sindaco di Montevarchi nelle scorse settimane aveva presentato un esposto alla procura di Arezzo. A quanto pare qualcosa non è stato portato avanti come si doveva, quindi gli organi preposti faranno controlli che devono perché è giusto, come dicevo, anche se non si restituisce la vita delle persone, che chi magari ha sbagliato ne paga le conseguenze. Un altro esposto nei giorni scorsi è stato presentato anche dai familiari degli anziani dell'RSA di Bucine. Un'altra situazione è altrettanto drammatica. Sono infatti già dieci gli anziani che solamente in un mese hanno perso la vita, tutti positivi al Covid-19. I degenti deceduti erano quelli del piano zero, quello che ospita il nucleo cognitivo comportamentale. L'esposto anche in questo caso contro i gnoti non vuol puntare il dito contro nessuno, avrà unicamente il compito di far piena luce sulla vicenda, soprattutto nella fase iniziale, quando il virus è riuscito ad entrare all'interno della struttura.